Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e bentornati su Dragon Ball Xenoverse 2 perché andremo a scoprire insieme la nuova storia del DLC DLC 4 Quindi ragazzi, nuovi contenuti scaricabili che comprendono nuova storia, nuovi personaggi, nuovi stage, nuove mosse, nuove super anime Ragazzi, un botto di roba nuova Se volete vedere tutto, pollice in su adesso, superiamo assolutamente almeno i 5000 mi piace Se siete gasati, almeno un po' quanto me Ragazzuoli, vi ricordo che oggi alle 18 ci sarà un nuovo video per provare insieme anche i nuovi personaggi del DLC Quindi non dovete assolutamente mancare Vi mostro anche un'altra cosuccia molto figa, ovvero che ho cambiato giusto un po' gli abiti a Joseph mettendogli la parte superiore di Bills e siamo pronti a distruggere qualunque nemico Ed eccoci qua, vediamo un po', dobbiamo parlare con Culina? Possibile? A quanto pare il livello raccomandato è il 90 ma noi siamo ancora 85 Non importa, ci serve qualcuno in gamba come te per indagare su un pezzo di storia Finalmente ragazzi, proprio così, c'è stato un altro cambio nella storia E chi può aiutarci meglio di te che hai completato tutti i precedenti incarichi con la pattuglia temporale? Spero che accetterai la mia richiesta Vabbè ragazzi, troppe chiacchiere Noi vogliamo la nuova storia Andiamo con la pattuglia temporale insieme ancora una volta Ci siamo, ci siamo ragazzi Non immaginate quanto sia gasato ragazzi Non lo potete mai immaginare Quindi pollice in su Oh sei qui? Dov'è Trunks? Trunks è impegnato in una missione Quindi a quanto pare ragazzi, Trunks non è qui Io vi ricordo che ho fatto tutta la storia di Dragon Ball Xenoverse 2 qua sul mio canale YouTube Abbiamo visto anche la storia introdotta col secondo DLC Ed ecco la storia del quarto Capisco Bene Non vorrei che finissimo negli stessi guai dell'ultima volta È ben detto Kaioshin Perché l'ultima volta abbiamo avuto un po' di problemi Questa volta si è verificato un cambio in un periodo della storia legata a Trunks Eliminati gli androidi, la pace nel mondo fu di nuovo minata da una terribile minaccia Mantieni la calma e dai un'occhiata Questo è il cambio che si è verificato Ragazzi, preparatevi alla scena di gioco Alla cutscene Non vedo l'ora Ed ecco qui, tutte le pergamene oscure per il cambio della storia Ragazzi, subito un filmato in computer grafica Mamma mia, ragazzi, è stupendo, guardate Ragazzi, siamo in Dragon Ball Super Nella saga di Black Goku Quella di Trunks del futuro Cos'è che succede? Lui! È lui, ragazzi Trunks, salvati! No! Non devi andare così È cattivissimo Quindi, ragazzi, la storia a quanto pare sta cambiando e Trunks viene sconfitto E quel Black Goku è in forma malvagia Più del solito Il problema è evidente E ce ne siamo accorti Trunks sarebbe dovuto tornare indietro nel tempo e chiedere aiuto a Goku e agli altri Ma quell'uomo ha distrutto la macchina prima che potesse farlo Cambiando così la storia Oh, un altro viaggio nel tempo! Non posso permetterlo! Ricordiamo, ragazzi, che i viaggi del tempo dovrebbero essere proibiti Eh, però, in realtà, non è così in Dragon Ball Xenoverse 2 A differenza del nostro metodo di correzione Quella macchina crea altre linee temporali E infatti Quindi con i viaggi del tempo dei Patroller non succede nulla Ma se lo fa Trunks con la sua macchina del tempo, sì Ma il viaggio di Trunks nel passato fa parte della storia originaria Perciò va protetta Quindi, ragazzi, dovremmo salvare Trunks? Hai visto il volto dell'aggressore di Trunks, giusto? È come se l'abbiamo visto, ragazzi È Black Goku Nell'aspetto è uguale a Goku Ma nell'animo non potrebbe essere più diverso Noi sappiamo chi è in realtà, ragazzi È eliminato umani e divinità in ogni universo È un nemico a dir poco terrificante Ma non temere Affronterai questa minaccia con un alleato Sì! E sarà? Joseph! Quello del primo Dragon Ball Xenoverse! Sì! Mamma mia, ragazzi, come mi caso! In assenza di Trunks Ti abbiamo assegnato un altro partner Per me va benissimo Joseph e Joseph insieme Quello del passato e quello del presente Andrai nel futuro e ti assicurerai che Trunks torni indietro in quella macchina Poi aspetterai nel luogo in cui Trunks dovrebbe apparire nel passato Per incontrare Goku A quel punto Black Goku inseguirà Trunks indietro nel tempo La tua missione è impedire a Black Goku di alterare la storia Vabbè, questo era chiaro Buona fortuna a entrambi E proteggete Trunks Mamma mia, ragazzi Sono carico Come non mai Per questo quarto DLC Ed ecco qua Tutti i nostri amici Guerrieri Z Ecco Joseph Lì sulla destra Vedi qualcosa? Black Goku dovrebbe arrivare Tra poco Finalmente Black Goku è in azione Preparati! Guardate Joseph Come si è messo lì in disparte Per non farsi vedere Una nuova oscura minaccia Riduce la salute di Black Goku A un certo livello Quindi non dovremo sconfiggerlo Vedete? E arriva un tornado oscuro Mamma mia, ragazzi Stupendo! Ed eccolo qua Black Goku in una forma Villaneous E c'è Goku che si trasforma in Super Saiyan Troppe epicità Dove sono? Trunks, ti ho trovato Quindi, ragazzi In questa parte della storia Praticamente c'è Trunks del futuro Che sembra essere già Tornato nel passato Black Ho sentito che sei molto forte Mostrami cosa sei in grado di fare Sarà un onore Ho sempre desiderato affrontarti Con questo corpo Mamma mia, ragazzi Guardate che epicità davvero assurda Black Come hai fatto ad arrivare qui? Ben detto Trunks Vediamo che ci dice Esattamente come te Ho percorso la tua stessa strada Allora Noi andiamo subito col Super Saiyan del futuro Forse Non ne sono sicuro Sei stato tu A chiamarmi Per ucciderti Mamma mia, ragazzi Cattivissimo Ha un anello del tempo Se non fai attenzione Potrebbe seguirti Tra le dimensioni Bruttissima storia Vai con la raffica Energia massima potenza Fallo stancare In modo che non Che non abbia La forza di seguirti Poi torna subito Indietro Tu chi sei? Hai accompagnato Trunks dal futuro? Mmm Wow Un'altra creatura Saiyan Quindi la mamma Aveva un figlio segreto Ma dai Cosa dici Trunks? Vuol dire cavolate Ottimo Questo dolore Mi renderà più forte Molto più forte Ragazzi Sto Black Goku È davvero cattivissimo Più del solito Inizia a farmi paura Infatti anche Goku L'ha notato Allora Io proverei Subito a colpire Con queste combo E mamma mia Che mossa combinata Insieme a Goku Allora Andiamo con un altro Mortaio Galic Molto bene E proverei a concludere così Proviamo ad avvicinarci Andiamo con la Super esplosione Dell'aura Ho cambiato le mosse Ragazzi anche su vostra richiesta Per mostrare anche Qualcosina di diverso Adesso proveremo A distruggerlo Definitivamente Urlando un bel Devastalo Che ogni tanto ci sta E vai Quindi ragazzi Proviamo ad avvicinarci E non lo becchiamo Dobbiamo essere più vicini Mannaggia Avviciniamoci ora E super esplosione Dell'aura Devastalo così È riuscito a pararsi E guardate lo scontro Tra i due Bellissimo ragazzi Andare a ripercorrere Questa storia È qualcosa di assurdo E io vi ricorderò Una cosa Chiaramente Qualcosa non va Col mio nello del tempo Come vi dicevo Oggi Alle 18 Arriverà Un nuovo video Per vedere Nuovi personaggi Di Dragon Ball Xenoverse 2 Quindi sto parlando Di Vegget E di Fuget Zamasu Non potete Perdervi Quel video Ed ecco qui Black Goku Che viene Assorbito Ho tirato Ecco in questo Buco nero La distorsione Spazio temporale Guardate come Tenta di resistere Non ci riesce No lo so Cosa sta per fare Ed eccolo lì Ha fatto Esplodere La macchina Del tempo Di Trunks Vediamo il punteggio Z Ragazzuoli Punteggio Z In ogni caso Il gesto di Black Goku Mette in difficoltà Trunks ragazzi E' terribile Non pensavo che Black Distruggesse La macchina temporale Ehi Trunks Con chi stavi parlando Era uno dei tuoi amici Del futuro Goku in realtà Ci ha già incontrato Altre volte in passato Perché non si ricorda Di noi Quindi nemmeno lui Nemmeno il Trunks Del futuro Ci conosce Ed eccoci qua Che ritorniamo Nel nostro Tempio Miei cari Kaioshin Cos'è che ci dite Sei di ritorno Hai fatto un ottimo Lavoro Ve la siete cavata Entrambi egregiamente Grazie Grazie La macchina del tempo E' andata distrutta Ma è quello che è successo Nella dimensione reale Quindi Sì La correzione E' stata un successo Quindi in pratica Ragazzi Black Goku Avrebbe eliminato Trunks Siamo riusciti ad evitarlo C'è stato un altro Cambio Nella storia Perché parte Sta canzone Cattivissima Sei sicura? Dopo che la macchina Del tempo E' stata riparata Quando Trunks Ha trasportato Goku E gli altri Nel futuro E' la linea temporale In cui è comparso Zamasu Devi sapere che il nemico Che affronterai E' Zamasu Ex allievo Del Kaioshin Scoperta la vera forza Di Goku Ha usato le super sfere Del drago Per diventare Black Goku E ragazzi Qua ci sono gli spoiler Incredibili Impressionanti Fatti direttamente dal gioco Non da me E si è alleato Con Zamasu Della linea temporale Di Trunks Per distruggere L'intera umanità Anche se era Solo un allievo Non dovreste essere Coinvolti Negli errori Di noi divinità Ma non abbiamo Alternative Quindi Cercate di fermare Zamasu Come mi sto gasando Ragazzi E quindi si va Ed ecco L'era 796 E abbiamo Vegeta Super Saiyan Blue Abbiamo Black Goku In questa forma Villenuous In questa forma Malvagia E c'è la rivincita Con Black Goku Riduci la salute Di Black Goku A un certo livello Lo faremo Con grande piacere E guardate Vegeta come carico E noi combatteremo Con lui Mamma mia Chi è là? Oh sei tu Sei Una creatura Saiyan? No Non è possibile Anche se attaccate in massa Il risultato Non cambierà Vegeta Ora ti darò una Non mi serve il tuo aiuto Stanne fuori Tu e tutti gli altri Noi ragazzi sappiamo Cosa Farà Goku Insieme Al carissimo Vegeta Non c'è tempo Per queste cose Ora Black Goku È molto più forte Di prima Sai Sai cosa devi fare? Pensa Black Goku Hai fatto molti progressi Per essere una creatura Mortale Ti mostrerò una cosa Come premio E cosa? Attenzione Lo sapevo Lo sapevo Ecco Ragazzi preparatevi Guardate che figata Sto filmato Vai così Mi gaso troppo Ha un'aura potentissima Sul serio Mamma mia ragazzi L'epicità Allora Ti piace questo colore? È stupendo Non è vero? Se dovessi dargli un nome Adatto alla tua personalità Sceglierei Rosé Sì Super Saiyan Rosé Andiamo col mortaio Galic E ora fa una Super Black Kamehameha Ma noi lo fermeremo Vai così Super Saiyan Rosé Finalmente la forza di Goku È interamente In mio possesso Ragazzi Mi sto gasando Davvero troppo Credo che ormai L'abbiate notato Dovresti sentirti onorato Goku Ora raggiungerai L'apice Della bellezza No ragazzi Ci colpisce Ah Questa è tosta Ci ha fatto un colpo incredibile Ma toccherà a noi Proviamo ad avvicinarci Non ho la minima idea Di cosa Tu stia far reticando Capisco che la mia eloquenza Possa risultare incomprensibile Ai vili mortali Ma non importa Ragazzi Lui è troppo epico Bisogna ammettere che È fortissimo La mia volontà La mia bellezza Il mio vero essere È superiore a tutto il resto Pure all'intero universo Mamma mia ragazzi Sto Black Goku Non vuole saperne nulla Si ritiene l'essere Più potente di sempre Questo tizio Fa davvero paura Bendetto Proviamo a colpirlo Forza dobbiamo abbatterlo Joseph Insieme Il mio anello del tempo Ha rilevato qualcosa C'è qualcosa di familiare In te Ragazzi Cosa sta succedendo Perché Gli siamo familiari Un vero colpo di fortuna Ragazzi Abbattiamolo Dobbiamo subito Buttarlo giù Stai zitto E ascolta Sono io Il tuo avversario Qui Mamma mia ragazzi Abbiamo fatto una raffica Erge incredibile Ancora non hai capito Tu qua hai finito Mi sono scaldato abbastanza Mamma mia ragazzi Troppa roba Andiamo di nuovo Vai così Nulla Che cosa hai detto Ragazzi Vegeta È a terra Vegeta È stato sconfitto A ripensarci Ho sbagliato termine Più che un riscaldamento Sei un antipasto Vegeta Un delizioso Antipasto Di cosa sta parlando Ragazzi E ora che gli eventi Facciano il loro corso E che io raggiunga Vette ancora più alte Io ragazzi Ho paura che Se concludiamo lo scontro Lui smetterà di parlare Non subirò più Le tue azioni Sconsiderate È dimenticato Il nostro accordo Tocca a me Dare il colpo Di grazie a Goku Quindi ragazzi Zamasu e Black Goku Stanno litigando È lui Quello è Zamasu A Zamasu Ci penseranno Goku e gli altri Voi due Fate il possibile Per fermare Black Goku e Trunks Sono fuggiti Mentre Vegeta È stato messo in salvo Da Mai Ragazzi Quindi possiamo Finalmente Provare a concludere Almeno una parte Della storia Sembra essere Stata ripristinata Trova un barco E fa ritorno Ricorda solo Che sono in possesso Di anelli del tempo Ragazzi Quindi si conclude così Black Goku Non doveva essere Sconfitto Infatti ce l'abbiamo fatta Vediamo un po' il grado S Comunque Sono molto molto soddisfatto E adesso Che succede? Sembra Che stia succedendo qualcosa Questo ragazzi Comunque È il futuro di Trunks Distrutto E lui dice Se la sono svignata Ed ecco Zamasu Non importa Torneranno E allora Li elimineremo Una volta Per tutte Che cattiveria Che cattiveria E cosa facciamo Per quell'altro problema? Quale problema? Per quello Dovremmo avere pazienza Con i viaggiatori temporali La fretta Non aiuta Stanno tramando qualcosa Forse Hai ragione Ed ecco che Ritorniamo A casa Rieccoti Sono felice Di vedere Che stai bene Eh Lo so Abbiamo rischiato parecchio Te la sei cavata La grande Vorrei dirti Di andare a riposare Ma Ci sono altri problemi Come sempre Brutte notizie Si è appena verificato Un altro cambio Nella storia Temo che anche questa volta Ci sia lo zampino Di Zamasu E Black Goku Mi spiace Dovertelo dire Ma Ti aspettano altre Dure battaglie Informaci Quando te la senti Di partire Io ragazzi Anzi Sono contento Di fare nuove lotte Questa prima parte Della storia Dedicata a Dragon Ball Super Mi ha gasato un botto E mi avete visto Con i vostri occhi La scena Quella lì In computer grafica È stata stupenda A dir poco Mi raccomando Attivate la notifica Per domani Perché ore 14 e 30 Ci sarà La nuova storia Che continuerà Questa che abbiamo visto oggi Ma oggi alle 18 Così come anche domani Vedremo i nuovi personaggi In nuovi video Quindi ragazzi Dovete stare sull'attenti Gli orari sono 14 e 30 E 18 Per tutti i nuovi video Del quarto DLC Grazie per essere stati qui con me Pollice in su adesso Ricordate di iscrivervi Se non l'avete fatto Cliccando qui appunto Al centro Guardate altri video Di Dragon Ball Xenoverse 2 Se ancora non l'avete fatto E alla prossima Ciao